Vangelo Giovane, buon lunedì cari amici, buon lunedì a Don Nazareno, come stai? Buongiorno Francesco, bentrovato, bentrovato anche a tutti quanti, ho fatto una corsa dal santuario. Abbiamo capito perché tu vieni sempre in ritardo il lunedì mattina, perché ti trattieni in chiesa inferiore. Ho fatto una corsa veramente. Con padre Francesco Savino quando legge le lettere. Simpaticone davvero. Ebbene, dopo questa breve incursione in un altro programma televisivo, ti ritrovi qui con noi con Vangelo Giovane, anche quest'oggi Don Nazareno, innanzitutto per salutare i nostri amici che ci seguono e che sono sempre più numerosi, soprattutto coloro che anche attraverso il web si fanno sentire, scrivono, in molti ti scrivono, chiedono, una sorta di direzione spirituale online a volte. Sì, diciamo che alcuni fanno domande importanti anche sulla loro vita. Io cerco di dare una risposta, insomma, qui davanti, davanti alla telecamera voglio dire, non è che le risposte si possono dare così a tutti, però ci proviamo. Qualche volta noto nei messaggi davvero una grande richiesta di aiuto e tante volte vi dico la verità, non è che non mi sento la persona più adatta, però ci provo, insomma. La cosa importante è poi portare tutto nella preghiera, perché senza la preghiera anche le soluzioni dei problemi, insomma, diventano solo così, solo umane. Tante volte Francesco mi sto rendendo conto che c'è bisogno di pregare. Io spesso dico, signore, ti prego tutte quelle persone che neanche conosco bene, ma che mi chiedono preghiere per i problemi. Sto notando soprattutto, per esempio, problemi matrimoniali, nel senso proprio di relazione familiare, problemi tra genitori e figli. Queste situazioni qui ho visto che sono la maggior parte delle volte l'argomento della richiesta della preghiera. Oltre che anche tante sofferenze dovute a malattia, una richiesta di una signora, per esempio, che mi ha colpito per la conversione di un giovane che si chiama anche Michele, un giovane che si è allontanato dal Signore. Ecco, una richiesta un po' diversa magari dalle altre, sì. E allora, Don Nazareno, la domanda scottante del lunedì, ormai quando noi ci esprimiamo così, lunedì mattina, domande scottanti, risposte chiare, almeno ci proviamo. Ci si prova. Dando la possibilità ai nostri amici di interagire con noi, di chiamarci, di scriverci, di postare i messaggi su Facebook, sulla pagina Vangelo Giovane 2. Ecco, la domanda di quest'oggi, sai porgere l'altra guancia, caro amico, cara amica che ci stai seguendo in questo istante? O che vedrai il nostro appuntamento anche in replica su web, su YouTube? Sì, ci seguono davvero in replica perché alcuni scrivono e ringraziano pure. Stamattina ho ricevuto un messaggio, tra l'altro non ce l'ho qui il telefonino, mi diceva appunto avrei voluto salutare ma purtroppo io ho un telefonino, ce ne ho due davvero, nel senso uno vecchio e uno un po' più recente. E su quello più vecchio non mi escono i nomi, ogni volta devo fare sempre una fatica a collegare il nome al numero. Penso siano degli amici miei, ma può darsi che siano anche amici di rete, che quindi dicevano allora ci vediamo tra poco in diretta. Io quindi vi saluto, il messaggio è stato bellissimo, quando scoprirò chi è, vabbè ci faremo una risata insieme, ma è importante, davvero grazie perché la prima volta che ricevo un messaggio prima ancora di andare in trasmissione che mi dice auguri, grazie, argomento quanto mai appropriato, sì davvero, appropriato anche per la mia vita perché anche io come sacerdote sono tenuto per amore di Gesù a porgere l'altra guancia. E allora 380 24 18 311, cari amici il nostro numero esclusivamente legato agli sms, quindi inviate i vostri sms al 380 24 18 311 oppure potete chiamarci in diretta allo 0882 41 83 80 o ancora sulla pagina facebook, possiamo vederla insieme, c'è una bellissima immagine con Vangelo giovane che ci invita a postare i messaggi in Bacheca, eccola qua, bellissima immagine, un volto sorridente. Forse era un volto estivo, non lo so, può darsi. La domanda diciamo che è difficile Don Nazareno, ma ce lo chiede direttamente Gesù quando dice Porgi l'altra guancia. Sì, ce lo sta chiedendo proprio lui, ce lo sta dicendo in un contesto particolare in cui lui stesso si sta preparando e sta preparando anche i suoi a vivere l'esperienza più triste della vita di Gesù perché c'è un'esperienza che è dolorosa, la comunicazione che Gesù deve fare ai suoi discepoli circa la sua sofferenza che avrebbe dovuto vivere, ecco la fa in diversi modi, abbiamo ascoltato domenica scorsa la trasfigurazione, ecco il Porgi l'altra guancia appartiene a quella serie di catechesi, possiamo dire così, di Gesù che nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco fa proprio per istruire sulla novità del Vangelo, un pochino come quando Gesù volesse far comprendere che c'è una differenza qualitativa rispetto all'Antico Testamento, per cui non è più necessario solo, ecco non offendere per esempio il prossimo, ma è necessario porgere l'altra guancia, fare un miglio, ci viene richiesto di fare un miglio e di farne due, ci viene richiesta la tunica e dai anche il mantello o viceversa, ci viene richiesto il mantello e dai pure la tunica, quindi un atteggiamento di grande libertà perché questo vuol dire porgere l'altra guancia e essere liberi anche di fronte alle accuse, alle calunnie e a tutto quello che può capitare e capita, capita soventemente, capita nelle migliori famiglie, capita dappertutto, ecco che si vive questa esperienza in cui poi vieni davvero interpellato, allora ecco perché la domanda, ma tu la sai porgere l'altra guancia, la porgi, riesci a porgerla, perché quando vieni interpellato è lì che il Vangelo diventa vissuto, perché è bello parlare del Vangelo, ma quando ti toccano sul profondo, lì devi interrogarti se riesci davvero a vivere quello che il Signore ti chiede, quella è la vera conversione, non Francesco? Parliamo di conversione, ma quando è che ci si converte davvero? Quando sei interpellato su quelle cose che davvero ti sconvolgono la vita e poi ne parliamo. Ci sono già diversi messaggi su Facebook, caro Don Nazareno, se vediamo insieme la pagina facebook.com slash Vangelo Giovane, tu ci scrive Vita Maria. Ah che saluto carissimamente, perché la conosco, ciao Vita, un abbraccione. Dice, non sempre è facile porgere l'altra guancia, siamo uomini e se non siamo aiutati dalla grazia di Dio da soli, non riusciremo mai a perdonare e a porgere l'altra guancia. Sì, vedi, il perdono di Dio diventa la molla che ti aiuta a porgere l'altra guancia, quindi diventa proprio la molla fondamentale. Dio mi ama e quindi io posso amare, Dio mi perdona e quindi posso perdonare. Dio ne ha presi di schiaffi e li prende tuttora e io devo vivere come Dio, essere simile a Lui in questo senso. C'è una nostra amica, il suo nick è Lady Mia, che dice è una vita che mi prendono a schiaffi. In che senso? Non lo so, chiediamo alla nostra amica di commentare, anche di riflettere insieme attraverso questi post, mentre Antonio ci scrive, no, altrimenti che bisogno avrei di Dio per porgerla? Infatti, però vedi, il porgere l'altra guancia è un segno di libertà rispetto al male che ti viene posto, che ti viene fatto. Se mi tirano una pietra, io ovviamente ricevo il colpo e lo accuso pure. Quale sarebbe la prima cosa che ti viene voglia di fare, Francesco, quando ti tira una pietra? Dei prendere un macigno e ritiraglielo addosso. Ecco, porgerla tra guancia significa stop anche alla violenza, stop alla vendetta. Quindi una grande libertà. Cioè il male che mi hai fatto, ok, mi ha fatto male, ma non te lo ricambio con altrettanto male, cioè interrompo questa catena maligna. E chi ha orecchi per intendere, intenda, perché c'è una catena maligna tante volte che si innesca anche nella chiesa qualche volta e quando si innesca la catena maligna la catena maligna è interrotta. Tu mi fai del male? Bene, io interrompo questo male. L'invidia, la gelosia, sono tutti atteggiamenti che portano ovviamente a rispondere umanamente, ma Cristo ci insegna a essere diversi. Abbiamo una telefonata da Nazareno, eccolo qui il nostro amico Francesco, Francesco da Torino, buondì. Buongiorno. Ciao Francesco. Francesco noi sentiamo poco in studio, adesso i tecnici ci alzano un po' il volume, magari... Eccoci. Ok, pronto, dici tutto. Pronto? Sì, vai, vai, vai. Si sente male. E... va bene, però tu continua a parlare che ti sentiamo bene noi. Allora... Sì. Va bene, allora vi volevo chiedere... Sì. Siccome che nel Vangelo c'è scritto che Gesù ha detto, non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, uno è il vostro padre il celeste. Sì. E non chiamate nessuno maestro, perché uno è il vostro maestro Gesù. Sì. Noi siamo tutti fratelli. C'è un regolamento che dobbiamo chiamare, chiamare il padre di sacerdote o com'è? Ah, ho capito. Va bene, diciamo che... Grazie Francesco. Va bene, va bene, ok. Dunque, per quello che riguarda questa situazione del non chiamare padre, eccetera, ovviamente Gesù sta dicendo una cosa molto importante, cioè nel senso che sta rivelando l'identità di Dio, quindi quello è importante per Gesù. Dio è un padre, è una novità, noi siamo abituati, noi diciamo il padre nostro così come quando biascichiamo parole, non diamo neanche il giusto peso a questa grande e importante preghiera. Ecco perché Gesù dice non chiamate nessuno padre, nel senso che il padre è uno solo, dove il chiamare, attenzione perché nell'ebraismo nome coincide anche con realtà, quindi chiamare qualcuno padre significava che non ce n'è un altro, è differente insomma la storia. Ma noi chiamiamo padri, per esempio i sacerdoti dei frati, anche se ormai sta invalendo l'uso di chiamare tutti quanti col nome frate, anche se fossero insomma padri o ministri generali per dire no, quindi è più che altro un'abitudine, ma attenzione, noi abbiamo anche l'intelligenza di capire che lì è un padre con la P minuscola, Dio padre è un padre con la P maiuscola. Allora abbiamo un'altra telefonata in diretta, siamo in diretta, ricordiamo Maurizio, Maurizio d'Ancona, Maurizio è una cortesia, seguici attraverso il telefono e abbassa il volume del telefono, grazie Maurizio, siamo in diretta. Buongiorno, mentre stavo preparando la documentazione da presentare all'avvocato per una causa di lavoro, se è giusto la vostra trasmissione sul porgere l'altra guancia, quindi la domanda che pongo è questa, sono 30 anni che svolgo l'attività, sono responsabile amministrativo in una società. Mi occupo anche di estero, quindi è un lavoro estremamente complicato perché la normativa fiscale non è la normale che viene attuata in Italia, ma riguarda paesi con l'estero, quindi è la 74 terra. Soltanto il motivo per il quale sono stato demanzionato da agosto dello scorso anno, il motivo è perché mi rifiutavo di svolgere, di fatturare fatture false, la spia con i colleghi e comportamenti di questo genere. Ho sempre fatto responsabile dell'amministrativo e quindi mi trovo da agosto, settembre ricevendo una lettera di demanzionamento, quindi dovevo fare il magazziniere, far l'usciere, andare in banca, in posta, consegnare documenti eccetera e quindi l'annichilimento totale, lo svilimento della persona, un sopruso vero e proprio. Sono stato malissimo, sono entrato in depressione totale, dopo ringraziando il signore con i parroci qui davanti eccetera, quindi nell'animo sono rimasto sempre vivo, però come persona annichilita in modo esasperante e sono stato costretto a delle terapie psichiatriche. Ne sto uscendo, rimane sempre il fatto nel contesto attuale italiano e mondiale del lavoro, quindi c'è questo problema, però non posso esimermi da rivendicare i miei diritti, da rivendicare una verità. Sì, allora, guarda Maurizio, la rivendicazione di un diritto non vuol dire non porgere l'altra guancia, il problema è questo, anche nella rivendicazione del diritto c'è comunque un Vangelo che si trasmette con il proprio stile di vita, fare una causa non è sbagliato, avere un avvocato per la difesa non è sbagliato, l'importante è non avere il senso della vendetta, facciamo conto per esempio che uno abbia fatto uno sgarro a un altro e dopo anni magari questi si vendica, ovviamente la vendetta sarà 100 volte superiore. Io ti ho tirato uno schiaffo dieci anni fa, tu adesso mi vuoi uccidere, faccio un esempio, dopo dieci anni, ecco il progetto della traguancia chiede che la giustizia sia tale ma che non vada oltre, che non ci sia quell'oltre che è nell'indole umana di una umanità ovviamente ferita dal peccato, di un'umanità tentata dal demonio, di un'umanità appunto che vede nella vendetta quasi una soddisfazione, ah io però adesso cammino a testa alta, ho soddisfatto un mio diritto, il soddisfacimento dei diritti è una cosa naturale, ma deve passare sempre il Vangelo, io dico sempre che anche gli avvocati, anche i giudici devono santificarsi e quindi anche in una situazione di una controversia, qualunque essa sia, il progetto della traguancia è viverlo con l'atteggiamento del distacco, che non è facile, ecco tu stesso sei la dimostrazione vivente di quanto sia difficile, di quanto il fisico a volte subisce e soffre, e in quel caso là io dico che il progetto della traguancia significa anche offrire questa sofferenza davvero per il Signore, io dico di offrirla per la conversione dei peccatori, perché quando dietro anche a una causa ci fossero altre motivazioni, quelle motivazioni sicuramente non sono cristiane e chi fa cose del genere pagherà davanti a Dio Padre perché è peccato contro lo Spirito Santo, è peccato contro la grazia di Dio, è peccato contro il perdono, non so se mi sono spiegato. Grazie Maurizio, intanto un altro Maurizio che ci scrive, il nostro Maurizio che scrive su Facebook, ricordiamo ai nostri amici Vangelo Giovane Tu, facebook.com slash Vangelo Giovane Tu, eccola qui l'immagine dove potete postare i vostri messaggi e li leggeremo qui in diretta, potete scriverci anche al nostro numero di sms 3802418811 e poi chiamarci in diretta come Maurizio e Francesco, quest'oggi due uomini hanno cominciato la nostra diretta, a differenza delle altre settimane che cominciano sempre le donne a farci sentire. A me dispiace solo di una cosa, mi dispiace che non riusciamo ad avere la fascia un po' più giovanile perché ovviamente questioni di orario, lavoro eccetera, però posso garantire e lo dico qui adesso in diretta che siamo seguiti anche a distanza, anche perché su Youtube e poi anche sul Vangelo Giovane parecchi vanno a vedere e quello che è appunto poi la registrazione e seguono diventa anche una forma di catechesi, io sono contento di questo, io i messaggi ce li ho a Francesco, mi darei tu il via quando potete. Sì, leggevo giusto Maurizio che scriveva come è bello perdonare un'offesa subita, pensiamo alle offese che ha subito Gesù, che Dio benedica tutti i componenti di questa bella pagina, ecco grazie Maurizio, poi saluta come sempre, Don Nazareno umilissimo. Ma no, non è vero, umilissimo, guarda mi viene in mente una battuta, la voglio dire qui, quando c'era una persona che io insomma conoscevo diceva mi hanno detto che non sono umile e lui diceva appunto perché era ferito dal fatto che qualcuno gli avesse detto tu non sei umile e lui rispondeva io sono umilissimo e me ne vanto. Bene, 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 intanto abbiamo una telefonata, ricordiamo 380 24 18 311 il nostro numero di sms, mentre 0882 41 83 80 per le vostre telefonate come ha fatto Maria, Maria da Napoli. Pronto Maria? È pronto? Sì. Pensate, buongiorno, non la sento assolutamente. Non fa niente, ci sentiamo per telefono, dici tutto. Per telefono non la sento appunto, vabbè faccio la mia domanda e magari poi ascolto la risposta in tv. Allora il problema mio è questo, io da due anni dopo un viaggio bellissimo a Meggiugorie ho trovato la conversione e niente, però da quel momento ogni volta che professo appunto il mio credo cristiano mi attaccano, soprattutto per quanto riguarda la chiesa. Dicono come è possibile che tu credi alla chiesa quando nella chiesa ci sono crimini, quali la pedofilia, ci sono ladri, come fai a credere a tutto questo? E io sinceramente mi sento spiazzata, non so cosa rispondere. E niente, volevo un consiglio perché anche spesso quando parlo diciamo con i sacerdoti durante le varie confezioni, sono sempre confezioni molto veloci che a volte, non lo so, sembra di dover dire tutto in fretta perché non si ha tempo per ascoltare tutto e mi sento un po' un po' sole in questo. E quindi niente, stamattina da lei vorrei una risposta. La ringrazio e la sento in tv perché non ce ne ho sento nulla. Grazie Maria. Non è facile, però io posso dirti una cosa, non so se la conosci, la famosa lettera che si chiama così, ecco io adesso sono andato su internet e l'ho trovata, la lettera di Annetta, è una lettera che addirittura l'imprimato del vicariato del vicegerente nel 9 aprile del 52 vicegerente di Roma, quindi una lettera che è stata certificata, praticamente una lettera che viene dall'inferno, in cui appunto questa persona, è famosa quindi voglio dire per chi non la conosce magari può andare su internet e scrive lettera di Annetta, Annetta o Annette perché insomma è una lettera straniera, in cui questa persona si rivela a un'amica che voleva pregare per lei. Ha avuto un incidente stradale questa sua amica Annette, quindi lei sentiva questo bisogno di pregare per lei. Bene, arriva questa lettera in un modo misterioso e praticamente c'è proprio scritto questo che ha iniziato ad allontanarsi da Dio iniziando a giudicare la Chiesa, cioè il giudizio sulla Chiesa l'ha portata ad allontanarsi da Dio. Io voglio dirti, cara amica Maria se non sbaglio, da Napoli ho letto bene, Maria ma se uno è nelle tenebre è ovvio che cercherà quello che è delle tenebre, cioè chi vive nelle tenebre riesce a vedere molto bene il tenebroso, per una sorta di mistero, chi è nero sa bene che cos'è il peccato, chi vive nella melma del peccato come li vede bene i peccati degli altri. Questo ce lo dice il Vangelo, quando si dice che tutto è puro a chi è puro è perché chi è nella grazia, chi è nella pace, anche se individua il peccato riesce a vedere nel peccatore il segno di bene, lo so, anche tanti sacerdoti non sono così, dobbiamo perdonarli, pregare per loro, tu sei stato in un santuario importante, milioni di pellegrini, hai vissuto un'esperienza, ringrazia il Signore e metti in pratica quello che viene detto, di pregare sempre per i sacerdoti, però ovviamente non porgi l'altra guancia, non scagliarti contro, non vieni creduta, non preoccuparti, c'è il Signore dalla tua parte, non viene ascoltata, hai comunque chi ti ha dato questa forza, non dobbiamo reagire, non vengo creduto, diventa anche quella poi una forma di non porgere l'altra guancia, capito? Quindi vai serena, continua a pregare, quando senti una persona che dice ah io non credo, lì il Signore ti sta dicendo questa è una persona per cui devi intercedere e voglio aprire quindi la pagina del Vangelo di ieri, un Vangelo importante in cui si è parlato di un albero che non ha portato frutto, che cosa c'è stato in questo incontro tra padrone e vignaiolo? C'è stata una richiesta, una intercessione, il vignaiolo chiede padrone, lasciamola ancora un altro anno, questo ci viene chiesto anche a noi, di intercedere, di intercedere soprattutto per chi ha più bisogno. Sai porgere l'altra guancia caro amico, cara amica, sappiamo porgere l'altra guancia, sappiamo, chissà, e allora 380 24 18 311 per i vostri sms, 0882 41 83 80 le vostre telefonate, andiamo sui sms. Allora sms tra messaggi nuovi e messaggi antichi, leggo quelli dell'altra volta, che mi sembrano importanti, poi non li leggiamo, però è vero l'altra volta non c'è stato tempo, Simone che dice che è vero che conservarsi i casti fino al matrimonio è la cosa più bella che ci sia e dimostra vero amore. Bene, su questo guarda, io posso dire che il maligno è arrabbiatissimo, tra l'altro ho scoperto proprio che insomma non solo non si vede più la castità, ma si commettono facilmente aborti e questo sapete che è il peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, anche questo, questo è proprio uno di quelli tremendi i cui influssi durano per anni, quindi attenzione. L'invidia, sono una ragazza che appartiene all'OFS, vorrei pregare perché a causa dell'invidia sono fuori, dell'OFS, sono fuori dalla mia fraternità, a causa dell'invidia è fuori dalla fraternità. Poi ancora salutiamo Maria che ci ha mandato un messaggio, la persona che è Monique che aveva telefonato la volta scorsa, ci ha scritto un bel messaggio in cui appunto chi provava questo sentimento è sempre insoddisfatto, salutiamo Monique che aveva un accento un po' francese ma telefonava dalla Toscana e poi ancora Maria Grazia che dice che l'invidia è una cattiva consigliera e occorre pregare molto per queste persone, quindi abbiamo fatto così la sintesi dei messaggi della volta scorsa, proprio per dire che non li cestiniamo assolutamente ma li conserviamo e ora arriveranno i vostri messaggi, quindi 380 24 18 311. Abbiamo Don Nazareno, il messaggio di Ilenia che dice, mi chiedo a volte proprio cosa voglia dire porgere l'altra guancia, a volte mi rendo conto che annullarmi per gli altri, soprattutto quando si tratta di far felici le persone a cui tengo per vederli felici, spesso mi sono fatta del male io, ma non credo che questo voglia dire porgere l'altra guancia, un saluto. Non ho capito il nesso, cioè porgere l'altra guancia legato a che cosa, scusa Francesco se me lo rileggi perché non ho ben... Dice a volte mi rendo conto che annullarmi per gli altri, soprattutto quando si tratta di farli felici, ecco far felici le persone a cui tengo, per vederli felici spesso mi sono fatta però del male. Noi non dobbiamo mai annullarci per gli altri, dobbiamo essere per gli altri, se ci annulliamo non siamo più noi, quindi c'è un modo di intendere di essere per che non è il modo cristiano. Amare il prossimo come se stessi, amare se stessi, quindi dare dignità a noi stessi, non possiamo annullarci. Anche Padre Pio è stato per gli altri ma non si è annullato, altrimenti cosa dava Padre Pio? Cosa dava? Annullarsi forse come termine traslato in senso un po' analogico, non so se si può dire un po' analogico, però in questo senso sì, però attenzione perché noi qualche volta ci annulliamo nell'altro, nell'altra penso a certi rapporti di coppia e questi rapporti scoppiano, bisogna essere se stessi, bisogna trovare la forza di saper stare da soli, bisogna trovare la forza di sapere essere quello che siamo chiamati a essere senza doverci specchiare necessariamente nell'altro, a tutta prima, dopo sì ovviamente, quindi porgere l'altra guancia la puoi porgere in quanto tu sei te. E allora, ciao Ilenia, salutiamo anche Andreas che ci guarda dall'Argentina. Saludos amico, tra l'altro sì, credo che ci siano 4-5 ore di fuso orario, se non sbaglio dall'Argentina. Io so solo il fuso orario con altri paesi, per esempio con l'Australia abbiamo 13 ore, 10-12, dipende dal posto. Ebbene, poi abbiamo subito una telefonata, mentre Don Nazareno volevo subito leggere questo messaggio, chiede Aurora per piacere, ecco se potete ricordarmi le vostre piacere per la conversione del cuore di Luca, che si è guarito e liberato. Con Luca ci sono tanti altri, i cui nomi li possiamo fare o non fare, facciamoli nel cuore, mettiamo nella mente i nomi di tutte le persone che hanno bisogno di liberazione nel cuore e sono tanti, sono proprio tanti, quindi io davvero vi invito in questa settimana a vivere molto la preghiera di intercessione per le persone che hanno bisogno di riscoprire la bellezza di Dio, giovani e meno giovani. Tu intanto puoi leggere subito i tuoi sms, mentre abbiamo una telefonata, ricordiamolo 0882 41 83 80, Teresa, Teresa buona giornata. Teresa? Allora, il messaggio è arrivata? Eccoci. Salve, buongiorno a te Francesco, Don Nazareno. Ciao. Dici tutto. Allora, io mi chiamo Maria Teresa, appartengo a quella categoria che spesso ricevo schiaffi, accuse, ma solo ad una condizione li accetto, pensando a quelli che hanno dato a Gesù, o meglio, vorrei specificare che quelli più insopportabili sono quelli che ricevo all'interno diciamo della parrocchia, quale invidia, gelosia, accuse, insulti. Voglio raccontare una mia breve testimonianza. Sì. Brevissima Teresa. Mi accusano anche che vado tutti i giorni a messa. Beh, questa è una bella accusa, stai tranquilla. Premetto che... Ti possono accusare che vado tutti i giorni a messa, è una cosa buona, no? Io vado perché mi... Sì, ma giustamente io non è che vado a messa perché non ho niente da fare. Certo. Io vado con la consapevolezza che la liturgia è l'incontro con Gesù Cristo, e nell'Eucaristia, cioè, che si attinge come segno di ringraziamento e quindi partecipo a questo sacrificio che Gesù Cristo, cioè, ho la consapevolezza della bellezza che avviene nella celebrazione eucaristica. Certo. Io la ringrazio. Grazie a te, Teresa. E la penso tramite televisione. Va bene, ecco, guarda, avere una consapevolezza della propria fede ci può far comprendere cosa significhi davvero amare, il vero amore per il Signore, quindi sei vicina, cioè, se senti le accuse, ovviamente queste accuse sono fatte da chi? Cioè, il demonio è l'accusatore, è chiamato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte, Apocalisse 12, l'accusatore, chi accusa, chi s'appunta, chi punta il dito normalmente? Normalmente punta il dito chi ha problemi, chi ha peccati, chi ha colpe, chi ha colpe ed è stato redento e ha ricevuto la misericordia del Signore, è misericordioso nei confronti degli altri, quindi dubitare davvero anche. Siamo in diretta e squilla il telefonino di Don Nazareno. Sì, squilla perché dovevi spegnerlo. Eh beh, sì, sì, non fa niente. Va benissimo, così siamo in diretta. Allora, ricordiamo 0882 41 83 80, il nostro numero di telefono, oppure 380 24 18 311, tu hai degli sms? Sì, appunto, squillava il telefonino. Volendo potevi anche rispondere. Sì, ma squillava perché squilla, infatti alcuni chiamino al numero 380, che invece usiamo per gli sms, l'ho fatto via bluetooth. Allora, come difendersi dalle persone invidiose? Possono veramente danneggiarci? Possono danneggiare chi non sa porgere l'altra guancia, perché se non la sai porgere assorbi tutta questa invidia e inizia anche a covare dentro e cresce il tumore, il cancro, che dopo alcuni anni poi esplode. Esplode e fa male a te, fa male a chi vuoi fare del male. Quindi attenzione a essere liberi e liberati, liberi e liberati dentro. E vado ancora avanti, così poi dopo andiamo... Se non sbaglio abbiamo una telefonata. E qui ci sono un mano in testa, ho praticato due aborti, è possibile battezzare i bambini non nati? Questa pratica è solo una pratica di devozione, ma non è una pratica che la Chiesa conosce, devi pregare molto e per la tua redenzione devi lavorare a favore della vita. Solo così sconfiggerai quel maligno che pure si è annidato a causa dell'aborto. Quindi prega molto a favore della vita, fai volontariato, cerca di essere una persona testimone del Signore. E questi due bambini sono nelle mani di Dio come innocenti, come innocenti non si vendicheranno dal cielo, ma pregheranno per te. Però ecco la pratica di quel battesimo, così è una pratica intenzionale, è come dire vorrei, ma ovviamente il battesimo è un sacramento regato alle persone che sono in vita e non a quelli che non sono mai nati. Buongiorno Don Azenea e Francesco, vi seguo sempre. Come faccio a porgere l'altra guancia? A chi mi ha fatto tanto male nella vita? E a quale devi porgere l'altra guancia? A chi la porge? A chi ti ha fatto del bene? E porco l'altra guancia? Lo dice Gesù, se amate solo i vostri amici, che bene ne avrete? Fanno così anche i pagani. Una parente, vabbè lì dice che appunto una parente, beh è ovvio quando il male ce lo fanno i parenti lo soffriamo di più, se il male ce lo fa uno del Giappone che non vediamo mai, oppure voglio dire, è diverso, quindi capite bene la battuta. Buongiorno Don Azenea, progetto a guancia significa essere tradita dal marito con un'altra donna e perdonarla e accettare i compromessi, magari andando a vivere insieme a loro? No, assolutamente. che so ste famiglie allargate qua, che allarghiamo? No, 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 perdonare significa caro marito tu, io ti perdono, stop. Gesù quando dice va e non peccare più, ti perdono ma non peccare più. Intanto abbiamo il ritorno in studio della nostra amica o amico che ha il volume del televisore alto, ecco chiediamo a Lucia da Messina di abbassare il volume del televisore e seguirci attraverso il telefono e quindi Lucia sei in diretta, la tua domanda oppure la tua esperienza. Lucia? Sì. Lucia, Lucia devi abbassare il volume del televisore. bene, io sto ascoltando il vostro programma, mi viene in mente qualcosa che mi è successo, no? Una cosa però veloce, Lucia, abbiamo poco tempo. Lucia, abbiamo poco tempo, quindi velocissima perché abbiamo un messaggio e altre cose, capito? Bene, concedere il perdono e non riceverlo, è che io non mi sento però nel telefono. Va bene, adesso ci ascolti in televisione, puoi alzarti il volume di nuovo. Allora, concedere il perdono, ecco così le domande molto rapide possono dare magari spazio agli altri, concedere il perdono e non riceverlo, è il perdono più bello, è quello che ha dato Gesù sulla croce. Padre perdona loro, non sanno quello che fanno, è il perdono che apre alla grazia, è il perdono che apre al paradiso, è il perdono che non avendo ricezione è un perdono libero, liberante da veramente del porgere l'altra guancia, quindi vedi la così, hai posto il perdono, l'hai ricevuto? Sii serena, sii libera, sei nelle mani del Signore. Sì, Don Nazareno, vuoi leggere qualche messaggio? C'è un messaggio che è arrivato a metà e allora non lo leggo, mi dispiace, purtroppo anche… Abbiamo intanto una telefonata, abbiamo anche dei messaggi su Facebook, ascoltiamo… Come reagire se qualcuno mette il bastone fra le ruote sul lavoro? Beh, insomma, agire sempre nella legalità, nella legalità, ci sono delle leggi a favore delle persone che vengono molestate, come il mobbing, ovviamente lì bisogna far funzionare anche i propri diritti che non vuol dire essere cattivi, c'è gente che crede che far valere i propri diritti significa non essere credenti, ma il maligno questo vuole, vuole che voi non li facciate valere i vostri diritti, così vi sconfigge, vi schiaccia. No, i diritti devono essere propri, se vengo calpestato devo difendermi, ovviamente anche nella difesa cercherò di viverlo cristianamente questo, insomma, voglio dire, lo Spirito Santo viene chiamato Spirito Santo Paraclito, cioè Avvocato, quindi figuriamoci. Ci scrive Rita, che ha un cognome che io me ne guarderei di andare a dare un bel ceffone, non è difficile porgere l'altra guancia se nei nostri cuori c'è amore per Gesù e se non lo si fa vuol dire che non lo amiamo, mentre Istriano dice sapendo che le mie lacrime le asciuga il Signore, alla fine il perdono è più facile e felice, mentre Sonia dice alle cattiverie non do più peso perché mi affido sempre alla volontà di Dio grande e misericordioso. Saluti dalla Sicilia. Sì, poi ci chiedono se è vero che l'anticristo nascerà all'interno della Chiesa, scusatemi ma qua mi sembra come se l'anticristo fosse una persona, cioè l'anticristo, scusatemi, più anticristo del male e del maligno che si è annidato all'interno non solo, ma che cosa è la Chiesa? La Chiesa è fatta da uomini e donne che credono nel Signore, la Chiesa non è il Papa soltanto o i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, siamo tutti la Chiesa, il maligno si è annidato, si è annidato al punto da confonderci, quindi l'anticristo, voglio dire, guardatela, se questa è una società cristiana allora ditemi voi, purtroppo, ma guardate anche la frequenza alla Santa Eucaristia, guardate la frequenza ai sacramenti, volete ancora che nasca un anticristo, è ovvio che è tutto anticristiano, quindi permettetemi di dire che c'è tanto anticristiano, certo quando poi questo anticristiano si traveste voglio dire, da persone sante, beh lì proprio fa ancora più danni, ma è ovvio che anche lì, insomma, noi dobbiamo sempre distinguere il livello di santità dai frutti, i frutti fanno riconoscere se una pianta è buona, ricordiamoci il Vangelo di ieri, per chi è stato a Messa, chi non è stato, beh, si penta e vada a confessarsi e torni alla Messa. Classica espressione, sono credente ma non praticante. Vabbè, sono pulito ma non mi lavo, cioè che vuol dire, non ho capito, mi piace mangiare ma non mangio, non mangio, cioè che cosa significa, è una di quelle cose che non ha senso, cioè quando il non senso è dire sono credente e non praticante, proprio il non senso, non ha senso, è una frase senza senso, quindi chi dicesse così, beh, insomma, si faccia un esame di coscienza perché sta dicendo veramente una cosa che non ha senso, non ha senso essere credenti e non praticanti, non ha senso, è una frase che si usa a dire per giustificarsi, per sciacquarsi la coscienza. Abbiamo una telefonata, donna Zareno, Anna Maria da Roma, pronto Anna? Sei in diretta? Pronto? Sì. Pronto, mi sentite? Sì, in diretta. Verissimo, forte e chiaro. Ah, niente, io, allora, sono, il problema è se cerco di sensibilizzarlo. Sì. In poca l'ora sono vedova da 13 anni, ho un figlio di quasi 18 anni e un altro di 34 acquisito da un precedente matrimonio di mio marito che però mi era stato sposato in chiesa, quindi ho potuto sposarmi in chiesa, sono praticante francescana, ringraziando Dio tanto a fede, ho fatto un certo cammino e questo mi ha aiutato nella vita, ho poi anche padre Pio che mi sta sempre a fianco e quindi vado avanti, però mi è successo questo che in poche parole è una cosa che un po' mi crea conflitto, magari ci abbia lavorato per due o tre anni a questa parte, che quando hanno diviso le dita, i parenti di mio marito con cui sono stata sempre in buoni rapporti e adesso ho cercato comunque di arlacciare per il bene dei miei figli e comunque hanno diviso e diciamo in poche parole il tanto perché c'era tanto e a loro non gli è toccato nulla, se non forse gli daranno proprio un'adesia. Io questo, la cosa che mi chiedo è se faccio bene o male perché ho chiesto a tanti sacerdoti perché tanti mi dicono un diritto di lei, tutelare il suo figlio perché potrebbe avere bisogno di queste cose e quindi fare una causa, ma a me fare cause per una cosa materiale non è una cosa a cui tengo, racconto proprio con la mia, cioè litigare per cose materiali non è una cosa che a me non è mai stata nel mio modo di vivere, nel mio modo di essere e questo un pochino mi crea conflitto, ho cercato di perdonare e l'ho perdonato, io quando li vedo in un momento non servono ancora, però a volte certi momenti, nei momenti di difficoltà perché comunque ho un lavoro precario che può darsi da due o tre anni e qui finisce, non ho pensione, non ho niente, quindi un pochino allora penso e poi un domani però loro perché si sono comportati così? Allora forse a volte mi senti poca, ma allora io che faccio? Bisogna prendere una decisione, chiedo scusa Anna Maria perché siamo in chiusura, Anna Maria siamo in chiusura, bisogna prendere una decisione se far valere il proprio diritto il che non è una cosa negativa, cioè se c'è un diritto, per esempio un diritto ereditario, far valere il proprio diritto non vuol dire offendere, ma se tu ritieni che questo diritto puoi non farlo valere per la pacificazione della famiglia, fallo pure, però guarda qualche volta quando non si fa valere un proprio diritto si viene vista anche in maniera negativa, cioè voglio dire tu prova, cioè se vuoi far valere il tuo diritto devi deciderlo, decido sulla base del fatto che non è un peccato far valere un diritto, punto, non è un peccato, non è un peccato dire la parte che mi spetta, ovviamente se rinunci deve essere per qualcosa di più grande, deve essere davvero senza rancore, deve essere davvero con gioia e non deve nemmeno pesare a quelli che l'hanno presa da te la parte, non deve pesargli, perché altrimenti questo peso di avere quel di più che non gli spetta poi continueranno sempre a starti lontano, è un errore pensare che tante volte concedere significa poi ottenere la pace, perché chi ha ottenuto ingiustamente si allontanerà perché è nel peccato, perché è nell'ingiustizia e quindi verrà abbagliato dalla luce di chi ovviamente sa rinunciare, quindi fai la giusta valutazione. Don Nazareno, anche quest'oggi… Antonella D'Amatera, porge l'altra mancia di difficile, ma come sarebbe bello su questo oggetto… Leggili, leggili a quelli che richiesti leggono… Leggiamo finché non ci sfumano, appena professo la mia fede cristiana mi sento attaccare soprattutto sulla chiesa piena di peccato con preti e vescovi pedofili e ladri, come si fa a negare queste cose che sono davanti agli occhi di tutti? Sì, sono davanti agli occhi di tutti perché si prende il poco, lo si fa diventare il grande, lo si ingigantisce e come ci vanno dietro i giornalisti su queste cose? Ah, guarda, c'è proprio un accanimento. È ovvio perché per giustificare il proprio essere credenti e non praticanti si va a trovare tutti i pretesti. Io vi consiglio, lo ripeto, trovate su internet la lettera di Annette e Clara dall'Inferno, scrivete Annette lettera dall'Inferno e leggete bene di come questa persona, che aveva questo tipo di ragionamenti, si è trovata all'Inferno perché ovviamente quando c'è l'attacco, manca la misericordia, il giudizio di Dio, il giudizio di misericordia e chi è nelle tene non riesce a sopportare la luce del Signore. Quindi i fumi del maligno che sono nella chiesa ovviamente vengono sanati dalla misericordia e dalla preghiera di tante tante persone. Anche Loredana dice che non riesce sempre a porgere questa guancia, però sa dare il perdono perché il Signore le dà questa forza, quello che fa cerca di chiarire la situazione, non le piace in assoluto le menzogne, le calugne e parlare da dietro perché così se ne entra una persona è lì che in un certo senso lei non riesce a porgere l'altra guancia. Ovviamente ci vuole… Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere, cari amici, appuntamento al lunedì prossimo. Quindi porgiamo anche noi l'altra guancia al tempo che ci tira lo schiaffo del fatto che è corso troppo velocemente. E salutiamo tutti i nostri cari amici che hanno interagito con noi attraverso Facebook, i vostri SMS che… Emilia, saluto anche. Li conserviamo la prossima volta. Saluto Maria Grazia, tutti quelli che ci hanno scritto, quelli che continuano a scrivere e quelli che interagiranno sul Vangelo Giovane in tutta la settimana. Grazie. Seguiteci su Facebook, Vangelo Giovane 2, facebook.com slash Vangelo Giovane 2. A lunedì.